Eccolo, e adesso? Adesso lo facciamo arrabbiare. Cosa? Bene! Eccolo! Atacco! Es un bersaglio! A un poco! Uno è andato! E due! Come gli togliamo il cannone grande? E vai! Portalo giù al nostro livello in modo che possiamo sparargli! Bene! Uccidi il pilota! Uccidi il pilota! Ok, facciamo arrosso questa roba! Forza, i trasformatori! Dove? Di là! La strada di accesso! Il cancello è aperto! Via! Via! Per favore. Ho-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Qualcini? Ah! E io pensavo che il cibo in prigione puzzasse. Ania, l'energia del ponte è ripristinata e stiamo uscendo. Marcus, abbiamo perso il controllo del treno. Dovrai saltarci sopra mentre passa per la stazione Tingat. Ricevuto. Saltare su un treno in corsa e recuperare una bomba. Questa giornata non fa che migliorare.